Notte di fuoco a Venafro, fiamme vicino alle case, ci sono volute ore per domare lo spaventoso incendio sul monte Santa Croce, in fumo circa 60 ettari di vegetazione, città scioccata dal rogo. Gravina resta sindaco per altri 10 giorni, colpo di scena in Consiglio Comunale, slitta ancora la decadenza del primo cittadino, concesso nuovo tempo per sciogliere la riserva, insorgono le opposizioni ed è scontro in aula. Miserni ancora polemiche sulla Fondazione Obama, il vice sindaco Federica Vinci replica all'opposizione che ha ritenuto inopportuno l'inserimento dell'evento legato all'ex presidente americano nel cartellone del Settembre Isernino. In migliaia per Lucchè e The Colors, al Campobasso Summer Festival, sold out per il rapper napoletano a Trivento, pienone per la band autrice del Tormentone dell'estate. Calcio regionale, domani stagione al via, si parte con la Coppa Italia, sei gli anticipi della prima giornata, in serie D, il Campobasso vicino all'accordo con il centrocampista Tarcinale e con l'esterno brasiliano Delgado. Buongiorno, apriamo con la cronaca questa edizione del nostro telegiornale, con lo spaventoso incendio che ha fatto vivere una notte di paura agli abitanti di Venafro. Ci sono volute ore per domare le fiamme di un rogo che è arrivato vicino alle case. è la cronaca di tutto quello che è accaduto nel servizio di Enrico De Simone. Cosa resta il giorno dopo? Circa 60 ettari di vegetazione in fumo, pineti e pascoli distrutti, una montagna che ha cambiato volto. Il bilancio dell'incendio scoppiato ieri sera a Venafro, due lingue di fuoco che hanno devastato il Monte Santa Croce. Vigili del fuoco, operatori regionali dell'antincendio boschivo e protezione civile al lavoro senza sosta per domare le fiamme e per spegnere gli ultimi roghi rimasti. L'intervento dei due canader e dell'elicottero della regione Molise è partito solo questa mattina all'alba. I mezzi non sono attrezzati per volare di notte. Sul posto da ieri sera con diverse squadre che stanno operando nella parte bassa e nella parte alta, naturalmente fin dove si può arrivare perché la zona è impervia, diciamo impraticabile. Poi in Ausirio ci sono due canader e un elicottero della regione. La fortuna ha voluto che non c'è vento, quindi le fiamme avanzano lentamente e ci danno tempo di spegnere e bonificare la zona. Questa è una zona, come sappiamo bene, ci sono molti residui bellici della guerra, quindi è pure una zona pericolosa. Ogni tanto si sentono degli scoppi. La situazione è sotto controllo ma è stata una notte di paura per i cittadini. Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alle case. C'è chi è sceso in strada preoccupato per l'espandersi del rogo. Spaventose le immagini del castello Pandone assediato dalle fiamme. L'inferno dietro alle campane della cattedrale di Santa Maria Assunta. Fortunatamente le squadre al lavoro sono riuscite a domare il fuoco prima che raggiungesse il parco regionale dell'Olivo. Sotto controllo anche il rogo che si muoveva verso Conca Casale. Sul lato Conca Casale è sotto controllo e stiamo facendo opere di bonifica. Intanto vanno avanti le indagini per ricostruire quanto accaduto. Fonti dei carabinieri forestali confermano l'origine dolosa del rogo. Dietro le fiamme la mano di qualche malintenzionato che ha sfruttato la notte le sterpaglie secche per causare un enorme danno ambientale. Uno scempio che fa male al cuore le parole di rabbia del sindaco Alfredo Ricci. Se dietro c'è l'intento criminale dell'uomo, come comune è aggiunto siamo pronti a costituirci parte civile per chiedere condanne esemplari e il risarcimento di tutti i danni. La furia dei cittadini. C'è anche chi non si è ripreso dallo spavento della notte. Siamo arrabbiati perché ci siamo messi paura tutti. Che ci potevamo fare? Chi è stato questo mostro? Il srige francese, un mostro che ha fatto questo. Insomma, siamo avuti paura anche per gli altri. Per quegli altri, come si fa? Dicevo, buona gente, tutto quanto hanno paura. C'è tanta rabbia. C'è tanta rabbia sì, perché ogni volta c'è la stessa storia. Adesso andiamo in Consiglio Comunale a Campobasso. Oggi doveva essere il giorno del primo sindaco donna nella storia della città. Invece tutto rinviato per la decadenza di Gravina. Se ne riparla tra dieci giorni. È stato concesso un nuovo termine. Le opposizioni vanno all'attacco ed è stato scontro in aula. Il servizio di Pasquale Di Bello. Non è Pasqua, ma è come se lo fosse. Il Consiglio Comunale di Campobasso si è riunito questa mattina per accertare la decadenza del sindaco Roberto Gravina dalla carica di primo cittadino, ma come fosse un gigantesco uovo di cioccolato, alla fine ha partorito una sorpresa bella e infiocchettata. Non solo la decadenza del sindaco Gravina non c'è stata, ma, cosa ancora più imbarazzante per la maggioranza, non c'è stato nemmeno l'atteso passaggio di consegne al vice sindaco Paola Felice. Insorgono le opposizioni che vedono dietro alla mancata decadenza una debolezza palese della maggioranza. Io voglio ricordare a tutti che il sindaco, non lo so come chiamarlo, forse meglio il consigliere regionale, Roberto Gravina, ancora prima della competizione elettorale, in una conferenza stampa con la sua giunta al suo fianco, aveva già detto e tracciato la linea, aveva detto io sarò eletto, mi lascerò decadere e continuerà la giunta in essere a portare avanti il mandato. Invece no, lui il 24 di luglio va in consiglio regionale, il 27 viene in consiglio comunale, il 31 aspetta che li notificano la delibera, poi prende 10 giorni, il 14 luglio non si presentano, perché c'è stato un altro consiglio convocato il 14 luglio, io ero in presenza, i consiglieri 5 Stelle, mandano deserta la seduta, arriviamo al 25 di agosto, e al 25 di agosto il sindaco Gravina, il consigliere regionale Roberto Gravina, chiede altri 10 giorni per decidere, ma decidere cosa? Gravina, sempre per le opposizioni di centrodestra, ha tradito il mandato elettorale, arrecando gravi danni alla cittadinanza. Il già sindaco Gravina, più volte nei mesi scorsi, prima delle elezioni regionale, aveva annunciato che non si sarebbe candidato al Presidente della Regione, per non tradire i cittadini di Campobasso. Beh, questo non è stato fatto, si è candidato, ha tradito gli elettori, e continuiamo ad assistere all'incertezza più totale per quanto riguarda la decadenza. Io voglio soffermarmi anche sulla gestione della città, la città ha bisogno di risposte, i cittadini vogliono risposte, e manca la gestione ordinaria, manca tutto. Non possiamo continuare ad assistere a questa incertezza da parte di questa maggioranza dei Cinque Stelle, altrimenti ci sono le dimissioni e andiamo al voto subito. Il Partito Democratico, accusato di connivenze sotterranee con la maggioranza grillina, in aula ha invece assunto una posizione netta. Gravina torni a fare il sindaco. Ho espresso, molto chiaramente, un atteggiamento critico nei confronti della candidatura di Roberto Gravina al Presidente della Giunta regionale. Tant'è che poi la posizione l'ho ribadita qui in Consiglio Comunale proprio 15 giorni fa in occasione del primo documento di decadenza che andava contestato e lì ho sottolineato come se c'erano queste intenzioni il sindaco Gravina poteva dimettersi a febbraio-marzo e dare la possibilità ai cittadini di Campobasso di avere un sindaco e un'aggiunta e un'amministrazione pienamente legittimata in questo momento perché è un momento topico per gli italiani e per le risorse che ci sono in gioco proprio per il PNRR. Quindi questo ho contestato al sindaco. Diversamente la decisione è che continuasse fino alla fine, si dimettesse da consigliere regionale per continuare il mandato. Per Paola Felice, sindaco in pecto del Consiglio Comunale non sta facendo altro che rispettare la procedura prevista dal testo unico sugli enti locali. Nessun caso politico replica alle opposizioni. Stiamo seguendo le indicazioni espresse chiaramente nel Tuel che chiedono al Consiglio di esprimersi sulla decadenza così come abbiamo fatto oggi con la delibera appena approvata, però concedono all'attuale sindaco altri dieci giorni nei quali potrebbe rimuovere la causa dell'incompatibilità o decadere con la prossima delibera dall'incarico di sindaco. Quindi è una procedura voluta diciamo dal segretario generale che ovviamente è garante per il Consiglio che vengano eseguite correttamente tutte le procedure ma sono le stesse che sono già state applicate anche negli altri comuni che hanno visto i sindaci candidati alle scorse elezioni regionali. ovviamente i tempi per noi sono stati leggermente più lunghi perché c'è stata la pausa del Ferragosto. Al momento del voto le opposizioni hanno lasciato l'aula e la delibera che assegna altri dieci giorni per la decisione a Roberto Gravina è stata approvata con 17 voti di maggioranza. Si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Matteo Apostolo a Nocera Inferiore i funerali di Elia Caroccia la giovane di 32 anni che ha perso la vita domenica scorsa precipitando in un dirupo a Roccamandolfi l'intera comunità si è stretta attorno al dolore della famiglia tanta commozione per l'ultimo saluto alla ragazza vedete le foto realizzate da RTA Live era una ragazza buona e umile ha detto nell'omedia il parroco Don Raffaele Ferrentino ricordaci col tuo sorriso che la morte non è l'ultima parola la mamma della giovane ha avuto un malore dopo aver visto la barra lasciare la chiesa e l'altra tragedia di questa settimana è quella avvenuta due giorni fa alle isole Tremiti ha perso la vita un sub Gianluca De Luca molto conosciuto a Termoli nella sua città in queste ore centinaia di messaggi di cordoglio lo sentiamo nel servizio di Andrea Nasillo raccontava ai turisti la storia di Termoli era impegnato in progetti che riportassero alla luce l'antica città era cresciuto in riva al mare spesso si immergeva per ripulirlo dai rifiuti guidava i visitatori che volevano scoprire il borgo e i trabucchi non si fermava mai Gianluca De Luca il sub di 53 anni morto nelle acque delle Tremiti dopo un'immersione ha lasciato un vuoto incolmabile infiniti messaggi di cordoglio di vicinanza alla famiglia di ricordo eri un uragano solare simpatico hai vissuto la vita a mille scrivono sui social ma non solo ti ricorderò sempre sorridente scherzoso con la battuta pronta una persona fantastica non si contano i pensieri rivolti a Gianluca De Luca che era anche un ballerino di danze caraibiche il mare è sempre stato il suo habitat la sua casa subacqueo esperto insegnante per gli altri che volevano avvicinarsi a questo sport adrenalinico quando andavo in acqua con te era tutto diverso le prime immersioni le ho fatte con te sei tu che mi hai insegnato a non aver paura del blu più profondo e a riposare a pancia in su guardando la luce che entra nell'acqua lo ricorda così chi insieme a Gianluca ha scoperto la bellezza dei fondali tutti hanno sperato fino all'ultimo di riabbracciarlo fino a quando l'elicottero della guardia costiera ha notato il suo corpo era incastrato senza vita tra gli scogli dell'isola di Capraia domani l'ultimo saluto alle 11 nella chiesa di Sant'Antonio a Termoli Manca poco più di un'ora al sorvolo delle frecce tricolori su Campobasso il passaggio è previsto alle 15.30 anche se l'orario potrebbe subire una variazione di qualche minuto le frecce tornano sul capologo molisano a tre anni di distanza dal sorvolo effettuato nel luglio 2020 durante la pandemia stavolta si tratta di un tour che tocca in questi mesi tutti i capologhi di regione per celebrare il centesimo anniversario dell'aeronautica adesso parliamo di sanità l'UGL Molise interviene sulla carenza di organi con gli ospedali chiede interventi urgenti e immediate all'azienda sanitaria il sindacato chiede che venga assunto il personale già formato che attende da tempo la stabilizzazione Tonino Danese ha intervistato Giovanni Colacci che è il segretario regionale dell'UGL Salute aumentare gli operatori sanitari è fondamentale per garantire ai cittadini un'assistenza adeguata e occorre farlo subito è quanto dichiara Giovanni Colacci segretario dell'UGL Salute Molise secondo il quale l'ASREM pur avendo la possibilità di stabilizzare tutti gli operatori sociosanitari infermieri medici tecnici ostetriche e amministrativi ha indetto un bando per rendere stabili solo 58 infermieri da una parte dobbiamo ringraziare l'ASREM e la struttura commissariale per aver cercato di fare dei bandi per la stabilizzazione ma non sono sufficienti verranno alla fine stabilizzati 58 infermieri e anche se c'è ed è presente un bando per la stabilizzazione di tecnici di radiologia nessuno purtroppo riesce a raggiungere i requisiti della legge Madia cioè i 36 mesi di servizio all'interno di un ospedale pubblico quindi siamo punto e da capo l'ASREM che cosa fa? indice un avviso a tempo determinato per tutte queste figure quindi per andare a coprire poi quelle che saranno le mancanze delle stabilizzazioni in vista di una legge nazionale che permetterebbe all'ASREM di stabilizzare tutti purtroppo questa cosa in Molise non succede Colacci insiste sul fatto che gli ospedali molisani abbiano bisogno di professionisti formati perché non stabilizzare il personale che già è all'interno dei reparti e conosce perfettamente quali sono le dinamiche lavorative di quel determinato reparto piuttosto che formare nuovo personale e quindi assumere nuovo personale a tempo determinato Per il sindacalista dell'UGL altro argomento da affrontare subito è quello della mensa aziendale Purtroppo da prima del covid per motivi di distanziamento e leggi che non permettevano l'accesso alla mensa è stata chiusa e non è stata più riaperta nemmeno vengono dati ai lavoratori dei buoni pasto e quindi la possibilità di andare altrove a servirsi del pasto Noi dell'UGL chiediamo spiegazioni all'ASREM del perché la mensa non è stata più riaperta Il sindacato chiede l'attenzione dell'azienda sanitaria regionale della politica è un impegno concreto immediato La nuova giunta regionale si è insedata da poco quindi chiediamo di attenzionare la sanità per quanto riguarda il loro lavoro futuro un dialogo con l'UGL c'è e c'è sempre stato quindi siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento vorremmo essere convocati per avere delle spiegazioni in merito Ripensare la politica al di là di destra e sinistra è il titolo dell'evento che si è svolto a Termoli alla presenza del saggista e opinionista Diego Fusaro un confronto sul ruolo della politica a prescindere dagli schieramenti sentiamo Andrea Nasillo Ripensare la politica al di là di destra e sinistra questo è il titolo dell'evento svolto a Termoli c'era il saggista e opinionista italiano Diego Fusaro a lui affidata una riflessione piena sicuramente di spunti e di provocazioni per alcuni versi cosa la politica fa o dovrebbe fare quale livello di preparazione dei politici la sfera ideologica un confronto alla presenza anche di Nicola Tedesco con il suo libro Le origini della sopravvivenza c'era anche Nicola Vedovino segretario nazionale di Ancora Italia per Fusaro bisogna andare al di là della destra e della sinistra bisogna agire su piani diversi occorre andare al di là delle categorie del novecento che pure tengono in ostaggio il dibattito contemporaneo dividendolo secondo dicotomie obsolete come fascisti antifascisti comunisti anticomunisti oggi il problema la contraddizione fondamentale si chiama capitalismo o se preferite neoliberismo o se preferite ancora fanatismo economico è di quello che bisogna occuparsi occorre elaborare nuove categorie della politica andando al di là dei vecchi schemi e quello che io ho provato a fare teorizzando l'esigenza di una nuova dicotomia della filosofia politica che è quella della divisione tra alto e basso che va al di là di destra e sinistra oggi assistiamo a un calo verticale del livello della preparazione culturale dei politici manca la figura che Max Weber chiamava del politico di professione cioè del politico formato del politico che si era formato alla filosofia politica alla cultura e quindi il livello è molto basso in generale a destra come a sinistra questo è un libro che ha un escurso filosofico storico che parte dalle origini dell'uomo fino ad arrivare all'uomo moderno dove io faccio una denuncia forte che quella che l'uomo moderno oggi è un uomo che non è più un uomo non è più un essere umano in confronto all'uomo che esisteva nell'antichità quindi riscoprire le nostre radici per affrontare il futuro ha preso parte all'evento anche l'assessore regionale a infrastrutture e lavori pubblici Michele Marone che ha apprezzato la valenza dell'incontro non senza posizioni critiche io dico di non condividere il non appartenere perché la politica comporta di per sé uno schieramento di appartenenza perché ogni schieramento di appartenenza ha la sua filosofia ha la sua linea politica da seguire per esempio noi siamo ispirati a uno spirito appunto liberale della politica per cui quello che invece deve appartenere ad ogni tipo di azione politica è l'efficientamento dell'azione amministrativa a un anno dalla scomparsa Agnone ricorda l'attrice Paola Cerimele stasera dalle 21 al Teatro Italo Argentino lo spettacolo teatrale della compagnia stabile del Molise Dolls e Ballets spettacolo messo in scena in passato proprio dalla Cerimele alla direzione artistica Lello Lombardi compagno dell'attrice Paola Cerimele scomparsa il 25 agosto scorso in un incidente stradale sulla Trignina e adesso Aisenia continua a far discutere la decisione di inserire l'evento della Fondazione Obama nel cartellone del settembre Isernino ieri l'attacco delle opposizioni oggi ai nostri microfoni replica il vice sindaco della città Federica Vinci ma le polemiche non si placano sentiamo Valeria Migliore Dopo l'inserimento di una tappa del tour Obama Leader Europe 2024 nel calendario del settembre Isernino non erano mancate polemiche da parte della minoranza di Palazzo San Francesco gli esponenti di centrodestra avevano parlato di una propaganda elettorale in vista delle europee attribuendo all'evento voluto dalla vice sindaca di Isernia Federica Vinci una connotazione prettamente partitica il consigliere di alleanza per il futuro Giovan Carmine Mancini aveva perfino invocato la cancellazione dell'evento ma la replica della Vinci che della Fondazione Obama fa parte non si è fatta attendere si tratta a detto di un'occasione per ispirare i giovani leader del mondo della politica e del business stimolando momenti di confronto la fondazione Obama è una fondazione no profit a politica e a partitica il loro obiettivo è quello di dare potere di aiutare gli attivisti in politica nella società civile e nel business a poter amplificare il loro impatto sul territorio da Isernia inizia il tour Obama leader Europe 2024 che non riguarda le elezioni europee ma riguarda il programma della fondazione che come quello che ha formato me cerca 30 giovani leader in tutta Europa per poterli formare e dare loro i mezzi per poter amplificare il proprio impatto io stessa ho lavorato con politici ma soprattutto con attivisti e persone che venivano da business etici proprio per poter capire come unire le nostre forze e lavorare meglio sui nostri territori da Isernia si inizia perché da Isernia la fondazione Obama vuole trovare altri talenti da poter supportare l'unica cosa che mi è dispiaciuto molto di questa polemica è vedere come tutta quanta la minoranza si sia unita contro un qualcosa che porta lustro alla città e che invece quando si parla di cose serie che davvero cambiano la vita della nostra cittadinanza come sanità e autonomia differenziata c'è il silenzio più assoluto spiegazioni che non hanno affatto convinto Mancini e Linda dall'olio e i due consiglieri sono tornati all'attacco la vice sindaca scrivono in una nuova nota vuole far credere agli Isernini che si tratti di un evento culturale ma aggiungono Mancini e dall'olio noi continuiamo a ritenere che il suo intento sia in realtà quello di reclutare nuove risorse per avere visibilità e alimentare un consenso politico che altrimenti avrebbe già perso a Termoli è arrivato il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri e il luogo tenente Alfonso Grande che sostituisce Filippo Cantore in pensione da qualche giorno diamo il benvenuto al comandante Grande ha scritto in una nota il sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano anche con lui cercheremo di instaurare fin da subito un buon rapporto di intesa e collaborazione finalizzato alla tutela dei termolisi e adesso siamo alla musica con la sfida a distanza ieri sera tra due beniamini dei giovani a Campobasso al Summer Festival che si chiude stasera con Manuel Agnelli sold out e grande festa per il rapper Lucchè a Trivento invece in contemporanea c'erano i Colors che hanno firmato la canzone tormentona di questa estate vediamo Tutti orche 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 il Summer Festival colpisce ancora anche quest'anno una serata da sold out per i giovani il protagonista stavolta è stato Lucchè il rapper napoletano nel concerto dell'area eventi di Selvapiana non ha deluso le aspettative degli oltre 5.000 ragazzi che erano arrivati già dal pomeriggio per l'atteso evento nella terza serata del festival un posto sul motore di ricerca un'isola che non c'è una spiaggia deserta dove con gli occhi chiusi sold out dunque per quella che è stata una grande festa con il cantante che ha proposto tutti i suoi successi e poi un ponte trapassato e presente con Pino Daniele Lucchè in una delle sue canzoni più recenti La notte di San Lorenzo ha utilizzato un classico del cantautore scomparso otto anni fa Io sto vicino a te La serata di Campobasso è stata una sfida a distanza tra idoli dei giovanissimi mentre nel capoluogo cantava Lucchè a non molta distanza incontrata a fonte del cerro a Trivento i Colors hanno radunato migliaia di persone arrivate da tutto il Molise e anche dalle regioni limitrofe un successo annunciato visto che la band napoletana è sulla cresta dell'onda dopo aver firmato la canzone tormentone dell'estate Italo Disco Il concerto dei Colors ha convinto oltre alle loro canzoni hanno suonato anche grande musica del passato come Tears of the Fields o Pink Floyd e anche qui come a Campobasso alla fine è stata ovazione a Boiano adesso dove oggi è festa patronale stasera il concerto bandistico di Conversano i fuochi pilotecnici ma intanto parliamo del grande successo che ha avuto la notte gialla numerosissime postazioni di musica animazione e coinvolgimento in piazza Roma il palco centrale con i DJ di Radio 105 per una serata dedicata soprattutto agli anni 90 e c'è stato anche un omaggio commovente a Toto Cotugno con tutta la piazza che ha intonato l'italiano vediamo una festa coinvolgente in ogni angolo della città musica e coinvolgimento per tutti di qualsiasi età è la notte gialla organizzata dall'associazione Vivi Boiano con la collaborazione di tantissime realtà del territorio lavoriamo affinché rimanga tale c'è l'associazione Vivi Boiano che come anche quest'anno si è impegnata per organizzare delle serate io mi onoro di essere al loro fianco di poter collaborare con loro poter dare la mano per quello che posso colgo l'occasione oltre di ringraziare Vivi Boiano di ringraziare tutte le associazioni che hanno organizzato eventi in questi mesi d'agosto e nei mesi passati e tutte quelle che ne organizzeranno in futuro sul palco centrale in piazza Roma il DJ Martin Klein mattatore del lunchtime di Radio 105 ed entusiasta del Morise allora io fino a due ore fa pensavo che il Molise non esistesse e invece a Boiano e il Notte Gialla mai sentito ho fatto quella rosa ho fatto quella bianca Notte Gialla voglio venire a abitare a Boiano giuro una cosa meravigliosa uno dei posti gente gentilissima io sono di Torino Torino negli anni 90 è stata la culla di Gigi Eiffel Gabri e poi un sacco di A Roberto Molinaro e quindi noi arriviamo tutti da una cultura di produzione dance e oggi continua a piacere sul palco anche musica anni 90 dal vivo mentre il pubblico canta e si appassiona il ricordo di Toto Cotugno fa cantare la piazza Ora si pensa all'evento di domani Giussi Ferreri era nell'agenda degli organizzatori da tempo domani sarà finalmente protagonista nel concerto di punta del calendario dell'estate boianese avremo molta più gente non vicino a noi insieme a noi per creare eventi durante diciamo durante tutto l'anno perché non è solo agosto che Boiano vuole gente nel paese lo vuole anche durante l'inverno abbiamo cominciato il 21 agosto con Boiano in passerella e oggi diciamo che si entra nel clou della festa con la notte gialla che si fa da un bel po' di tempo il 26 il concerto di Giussi Ferreri che speriamo ci porti un sacco un sacco di gente grazie mille Boiano I love you A Bagnoli del Trigno successo per il 50esimo trofeo Topolino tanti bambini che si sono divertiti con le tante attività e con la tradizionale gara sportiva per noi c'era Barbara Fino 50 anni di sorrisi 50 anni di corse 50 anni di storia per il trofeo di Topolino a Bagnoli del Trigno che quest'anno raggiunge un traguardo importante 50esima edizione dell'evento ideato dall'ex sindaco della comunità bagnolese Angelo Camele con l'intento di offrire ai bambini una festa senza tempo vedevo una ragazza che in tutti i paesi vicina questi grandi eventi grandi cantanti grandi orchestra e i bambini che li cura nessuno non per ritorzione decisi allora mi devo inventare la festa di Topolino e iniziare questa prima edizione dal 1972 ad oggi si ripete la festa Bagnoli del Trigno e il pomeriggio di sport dedicato a tutti i bambini con numerose corse per singole categorie dagli 11 anni fino ai neonati accompagnati dai genitori in carrozzina siete pronti? sì come è andata? uno l'ho vinta è andata bene anche quest'anno iscrizioni record con oltre 250 partecipanti e un pubblico numeroso che ha raggiunto Bagnoli del Trigno per il trofeo di Topolino è sempre bello sempre bello poi quando sono i figli a suo tempo adesso i nipoti è sempre bellissima nel 91 nel 91 è piccolino lei sì sì ho fatto maratona piccola e maratona grande quindi è passato tanto tempo a passo di Nordic verso la prevenzione l'evento che si terrà domani sabato a partire dalle 17.30 al Vallone della Terra parco delle tre fonti di Larino l'iniziativa promossa dall'Aido gruppo comunale di Larino l'Ilt provinciale di Campobasso e la partecipazione della misericordia della città frentana e del comune all'intento di promuovere la prevenzione e i buoni stili di vita la partecipazione è gratuita i bastoncini per il Nordic saranno forniti alla partenza l'evento è aperto a tutti a Montagone invece al via la festa del pomodoro un evento tanto atteso che parla di una specificità del paese protetta da Deco che aspira a rafforzare il proprio ruolo di motore di sviluppo territoriale questa sera dall'evento l'inizio della festa con i saluti dell'amministrazione comunale poi lo show cooking del pizzaiolo Marius la serata prosegue con musica e la presentazione della squadra di calcio a 5 del paese la festa del pomodoro prosegue anche domani con un convegno dalle 18 e poi una sagra gastronomica dalle 20 questa era l'ultima notizia grazie per averci seguiti vi auguro un buon pomeriggio vi lascio al meteo e poi le notizie sportive a più tardi personale un buon pomeriggio 少σα comuni e poi sul appropriato serve Grazie.